Due sconfitte consecutive, cinque gol presi ed uno solo realizzato non sono confortanti i numeri del Bari alla vigilia di un match già molto delicato contro il Sassuolo. In programma martedì alle 20.30 al San Nicola con il pubblico pugliese che ritroverà Fabio Grosso, campione del mondo nel 2006 ed ex allenatore dei Biancorossi nella stagione 2017-2018, reduce dal primo successo stagionale sulla panchina dei Neroverdi ottenuto nel derby vinto contro il Cesena. I Biancorossi saranno chiamati a rispondere sul campo dopo le tante critiche arrivate dopo la sconfitta del Braglia di Modena dove i ragazzi di Mister Longo, dopo un primo tempo incoraggiante e con il primo gol stagionale trovato dall'attaccante Novakovic, si sono fatti rimontare dagli emiliani palesando, ancora una volta, delle lacune difensive preoccupanti, soprattutto sugli sviluppi da calcio piazzato, con lo stesso Longo, che in conferenza stampa aveva definito preoccupanti le disattenzioni commesse dal terzetto difensivo Puccino, Vicari autore di un evitabilissimo fallo che è costato il calcio di rigore del pareggio, e Obaretin Reo, invece, di essersi totalmente dimenticato la marcatura sul portoghese Pedro Mendes in occasione del gol del definitivo 2-1. Contro il Sassuolo, Longo difficilmente potrà recuperare Maiello ancora ai box per un affaticamento muscolare e con il ballottaggio in attacco tra Novakovic e Lazagna con l'ex attaccante della nazionale, favorito dato che lo statunitense ha dimostrato di non avere ancora i 90 minuti nelle gambe. Intanto, a pochi giorni dalla fine di un mercato tutt'altro che esaltante, condotto dalla coppia di direttori sportivi Magalini e Di Cesare, nella notte è arrivato il messaggio dei tifosi biancorossi che, con uno striscione lasciato all'ingresso dello stadio San Nicola, hanno esortato il presidente Luigi De Laurentiis ad investire sul mercato per dare a lungo i rinforzi chiesti a gran voce dall'allenatore biancorosso. Per la difesa è forte l'interesse per il classe 99 Ziminski, che dopo l'arrivo a Frosinone di Biraschi, a lungo cercato proprio dal Bari e in uscita dal club Ciociaro.